eccoci qua allora abbiamo avuto dei seri problemi col microfono senza che ce ne accorgessimo ringraziamo diego e riccardo masini che ci hanno segnalato il problema e quindi ricominciamo da capo poi penserò io a modificare la copertina e i titoli di queste cose qua chiedo scusa a tutti per il problema tecnico che era purtroppo indipendente dalla nostra volontà allora stavo dicendo se ricominciamo da capo anzi avremo una puntata ovviamente più breve perché giannissero nero ci aspetta solo fra dieci minuti inizia dunque abbiamo la situazione in cui abbiamo lasciato la situazione in cui se la parte orientale del combattimento della guerra si era un poco stabilizzata perché annibale era costretto verso sud dalle tattiche di quinto febbra massimo temporeggiatore la guerra in macedonia stava andando bene comunque per i romani che avevano fermato il tentativo di attacco di filippo quinto di macedonia invece in spagna si erano avuti dei rovesci veramente dei rovesci veramente importanti rovesci veramente importanti in quanto pubbio con nello scipione il padre di quello che poi sarà chiamato l'africano e il e lo zio dell'africano sempre hanno caduti con battaglie che praticamente avevano sancito in quel momento la il predominio assoluto dei cartaginesi su liberia che succede quindi a questo punto succede che roma deve eleggere un console il cui primo compito sarà andare a occidente per provare a fare di nuovo danni ai cartaginesi in quella che la loro base principale africa esclusa cioè liberia e la scelta accade su pubbio con nello scipione l'omonimo figlio del recente caduto pubbio con nello scipione ha solo 25 anni e non ha fatto nemmeno il curso sonorum cioè quella sequenza di cariche che sono fondamentali per poter essere eletti consoli ufficialmente gli si dà la possibilità di andare a vendicare il padre in realtà l'impressione che nessuno degli altri senatori romani abbia la minima intenzione di buttarsi in quello che appare come un ginepraio una causa completamente persa pubbio cornellio scipione come quindi viene messo sulle sue navi viene dato il suo esercito e si dice vai vedi quello che puoi fare la traversata procede tranquilla noi ci immaginiamo senza sapere bene dove stiano andando i romani vanno verso occidente ci immaginiamo appunto il suo sotto ufficiale che a un certo punto gli chiederà vicino alla costa iberica ma dove stiamo andando e lui con la massima tranquillità e lui dice stiamo puntando verso cartagena cioè verso la capitale degli avversari dove arriva praticamente a sorpresa cartagena viene assediata in realtà come ovvio è molto ben difesa è in mezzo a una laguna attendono altri rinforzi che possano arrivare ma scipione dopo il primo assalto studia meglio la situazione attorno ovviamente è già studiata anche precedentemente si accorge che la laguna che circonda cartagena in realtà dalla parte opposta a quello che sembra essere l'unico ingresso in città in realtà è una laguna che quando c'è la bassa marea la profondità dell'acqua si abbassa decisamente e permettendo quindi probabilmente a uomini magari un po' alti di attraversare a piedi quindi cosa organizza scipione sostanzialmente mette la maggior parte dell'esercito che torna a tentare di fare un attacco dalla parte meglio difesa e 500 uomini con le scale d'assedio dalla parte opposta ovviamente questi uomini non sono convinti ovviamente il loro discorso è ma vuoi farci attraversare la laguna dove non saremo in grado di portare nulla non tocchiamo scipione dice fidatevi di me che poi qualcosa succederà praticamente allora che scipione gli ha predetto si alza anche un fortissimo vento e quindi praticamente si crea un effetto tipo mosè sul mar rosso le acque veramente si apono e l'impressione è che melnopolibio ci dice praticamente i soldati vanno attraversano tranquillamente con l'acqua che gli arriva al ginocchio e dall'altra parte c'è un combattimento molto molto violento per evitare che appunto i cartaginesi di cartagena si accolgano di quello che sta succedendo i romani arrivano appunto dalla parte opposta attraversando la laguna mettono le scale d'assalto salgono sulle mura iniziano a abbattere quelle poche sentinelle quelle poche presenze che incontrano finché non riescono ad arrivare praticamente indisturbati alla porta principale aprono il aprono il cancello a quel punto l'agito romano si riversa all'interno di cartagena e la capitale cartaginese della loro principale provincia per usare il termine romano cioè per quella iberica viene presa in questo modo scipione non poteva iniziare meglio la sua campagna a questo punto a questo punto abbiamo scusami riccardo visto che hai scritto un sacco di roba ti ringrazio ma ne ne parliamo dopo magari in diretta dopo leggerò con calma intanto grazie per esserci e grazie a diego che mi ha fatto notare l'errore tecnico di prima non so se senti ringraziamenti a questo punto scipione è in iberia cartagine pensa ancora di potercela fare il primo obiettivo per cartagine però mandare dei rinforzi a ad annibale che è bloccato e fermo con i suoi 40 mila uomini non è riuscito a sollevare le popolazioni italiche come sperava quindi il fratello asdrubale viene armato in un esercito importante e viene inviato attraverso le alpi per andare ad aiutare annibale dobbiamo chiudere perché sono 18 e 26 visto il problema tecnico di prima io ringrazio chi è stato con noi ribadisco che oggi dovrà finire perché oggi parliamo di spqr all'incontro col giannizzo nero in realtà appunto era un sogno ottimistico parleremo ancora di seconda guerra punica spero vi faccia piacere sicuramente anche domani e probabilmente la settimana prossima visto che siamo arrivati qui a questo punto qua io direi portiamola avanti fino alla fine se poi invece non ne potete più di sentire parlare di roma antica mi raccomando scrivetelo nei commenti riempitemi di insulti e ci penserò per il resto chiedo ancora scusa per il primo errore adesso sistemerò un po con le puntate vi saluto ringrazio massimiliano che si è aggiunto massimiliano ci sentiamo tra pochissimo a tavola rotonda il giannizzo nero dove parliamo di spqr uno dei giochi preferiti dal nostro presidente il giannizzo vi ringrazio ancora vi abbraccio chiedo di nuovo scusa e come dice il giannizzo nero questo sì sigla ciao 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 ciao